Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio Tecne Agenzia di IRE Monitor Italia sulle intenzioni di voto politiche nazionali. Chi si astiene è il 43,7%, mentre il primo partito è stabile al 29,7% Fratelli d'Italia. Il PD perde lo 0,2% e scende al 19,8%, il Movimento 5 Stelle perde lo 0,1% e scende al 15,4%, la Lega guadagna lo 0,1% ed è all'8,7%, Forza Italia guadagna lo 0,7% ed è all'8,1%. Calenda guadagna lo 0,1% ed è al 7,4%, Verdi e Sinistra italiana scendono al 3,1%, più Europa scende al 2,1%, Paragone scende all'1,6%, altri partiti 4,1%. Grazie a tutti e arrivederci a presto.